E' un onore per la Federazione Italiana Pallavolo consegnare nelle mani della Ministra Elena Bonetti la nostra maglia arcobaleno, simbolo di uguaglianza e di superamento di qualsiasi forma di discriminazione. Ascoltare significa andare oltre noi stessi e vedere le cose da prospettive differenti. Ogni giorno lavoriamo per consegnare un domani sempre migliore per tutti, vivendo il concetto più ampio di sostenibilità di cui sicuramente l'inclusività rappresenta un aspetto chiave. La speranza delle Nazionali Azzurre è quella di poter dare il proprio contributo in questa grande partita, nella quale tutti sono chiamati a fare squadra. Un valore straordinario, non solo di testimonianza ma di costruzione di una coscienza di paese. Il gioco della Pallavolo è un gioco diffuso tra le nuove generazioni, dalle bambine e bambine alle ragazze e dai ragazzi. Che le nazionali di Pallavolo si scendano in campo valorizzando l'elemento dell'inclusione e della diversità in un gioco di squadra, nell'opportunità di avere una sfida comune da vincere e da portare a termine tutti insieme, il segno di un paese che decide di giocare in squadra. È importante quindi questa iniziativa non solo da un punto di vista simbolico, ma della costruzione di un modo nuovo di giocare anche da un punto di vista delle relazioni sociali. Lo sport è il luogo dove le diversità entrano in campo insieme e costruiscono opportunità per tutte e per tutti.